Ciao a tutti, sono Filippo Macchiarelli e sono insegnante di basso elettrico, contrabbasso ed armonia presso Astra Music Academy. Durante l'anno scolastico affronteremo lo studio di diversi generi musicali come rock, pop, jazz e funk. Sarà interessante esplorare il ruolo del basso all'interno dei diversi generi musicali e affronteremo lo studio di diversi generi di accompagnamento in relazione agli stili. Durante l'anno vi affiancherò nella scelta a partecipare a workshop, masterclass ed altri eventi qui in Accademia con lo scopo di accrescere il vostro bagaglio artistico e musicale e soprattutto vi affiancherò anche nella scelta a partecipare all'interno di gruppi di musica d'insieme. Se volete saperne di più vi aspetto qui in Accademia, i corsi sono aperti e ricordate che la prima lezione è gratuita quindi approfittatene. Ci vediamo in Accademia. Ciao!